La mobilità è diventata una componente fondamentale dell'attività umana. Ogni giorno milioni di persone si spostano nelle città e tra le città. L'osservatorio Audimob dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti stima che in un normale giorno lavorativo gli italiani percorrano fino a 1,4 miliardi di chilometri. In un contesto nel quale i mezzi privati predominano è facile immaginare come la mobilità delle persone si possa trasformare in una fonte di problemi nelle aree urbane ma non solo. Il traffico, l'inquinamento, il rumore sono tutti effetti collaterali dannosi senza considerare le ricadute economiche. Una situazione è questa che è destinata a peggiorare. Secondo l'esime dell'ONU, infatti, entro il 2050 saranno oltre 6 miliardi le persone residenti in centri urbani. La necessità di un cambiamento è quindi evidente, un cambio che deve interessare le modalità stesse con le quali ci spostiamo. Il trasporto urbano è un settore estremamente importante. Siamo particolarmente focalizzati nel trasporto di persone nei centri urbani e nel cercare di dare vita a città sostenibili. Quando parliamo di città sostenibili, parliamo dell'ambiente nel quale ci troviamo ad offrire i nostri prodotti e servizi e dell'offerta di soluzioni di trasporto rispettose dell'ambiente alimentate a carburanti alternativi. Un esempio su tutti è il gas che garantisce una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altri agenti inquinanti, tra cui gli ossidi di azoto. Ma parliamo al tempo stesso di mobilità, migliorare la mobilità delle persone nelle città e soprattutto di migliorare la loro qualità della vita, offrendo loro un ambiente migliore nel quale vivere e muoversi. L'obiettivo è quindi quello di una mobilità sostenibile, un sistema di trasporto non solo a basso impatto, ma anche accessibile, sicuro ed efficiente. Ma soprattutto un sistema di trasporto intelligente e integrato, volto a ridurre il ricorso al trasporto privato, che necessita di aree di parcheggio e riduce gli spazi destinati alla viabilità, contribuendo in maniera determinante alla caotica congestione delle aree urbane. Scania lavora per creare servizi di trasporto urbano completamente personalizzati, in grado di adattarsi ai ritmi delle diverse città e dei diversi ambienti. Scania può proporre anche una gamma completa per quanto riguarda gli autobus, quindi sia trasporto pubblico sia veicoli gran turismo. Oggi in particolare, quest'anno, noi porteremo in Italia un veicolo gran turismo, lo Scania Touring. Noi abbiamo cominciato ai primi anni 2000 con i prodotti originali per il trasporto pubblico, dove oggi siamo già presenti, quindi diciamo da parecchi anni. E come ho detto, vogliamo però entrare in un segmento nuovo con questo prodotto, che secondo noi oggi ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze di un mercato molto specifico, perché pensiamo che un mercato del gran turismo ha delle esigenze molto similari a quello dei veicoli industriali, quindi affidabilità, consumi ridotti, uptime, quindi tutti i punti di forza di quello che è la soluzione offerta da Scania oggi sul mercato italiano. Dal trasporto urbano al gran turismo, Scania è protagonista con la sua offerta anche nella rivoluzione della mobilità delle persone. Lo Scania Touring, interamente progettato dall'azienda svedese e costruito secondo i più elevati standard di qualità, ha debuttato nel nostro paese in occasione dell'ultima edizione del Giro d'Italia. Il bus, che ha accompagnato la società sportiva Villier-Trestina, Selle Italia, a partire dalla decima tappa, è stato dotato degli allestimenti dell'azienda Tresca Transformer per renderlo più adatto ad accogliere una squadra ciclistica, un intervento facilitato dalle caratteristiche del mezzo. Finalmente arriviamo in Italia con l'offerta del touring, lo offriremo in due lunghezze, 12,100 e 13,70 tre assi, la meccanica è chiaramente la meccanica completa Scania, quindi la meccanica che è conosciuta ai più. Avremo due motorizzazioni, una da 410 cavalli per il 12 metri e una da 450 per il 13,70, tutti dotati di cambio robotizzato Scania, 8 rapporti per il 12 metri e 12 rapporti per il 13,7 metri. Lo Scania Touring, grazie all'elevato livello di personalizzazione, garantisce agli operatori di trasporto la massima sostenibilità, sia ambientale che economica. Anche nel caso degli autobus, poi, Scania mette a disposizione dei clienti un'intera gamma di servizi. Sì, assolutamente sì, naturalmente come diciamo nei veicoli industriali possiamo offrire anche in questo segmento, quindi con lo Scania Touring, tutti i nostri servizi, quindi parliamo di support program, quindi contratti di manutenzione e riparazione, e parliamo anche di fleet management, quindi parliamo di servizi dedicati all'autista, quindi driver coaching, driver training, e naturalmente anche servizi finanziari, perché oggi i clienti, diciamo, nel settore del gran turismo hanno anche bisogno di un aspetto finanziario che può essere seguito direttamente da Scania. I bus system di Scania offrono quindi una soluzione razionale, conveniente e sostenibile per risolvere i problemi legati alla mobilità, progettati per offrire flessibilità e scalabilità, rispondendo così alle esigenze fondamentali legate all'economia e all'ambiente di tutte le parti coinvolte, città, viaggiatori e operatori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS